Preghiera potente a San Espedito per ottenere una grazia urgente Mio Santo Espedito delle cause giuste ed urgenti, soccorrimi in questo momento di afflizione e disperazione. Intercedi per me presso il nostro Signore Gesù Cristo. Tu che sei il Santo degli afflitti, tu che sei un Santo guerriero, tu che sei il Santo dei disperati, tu che sei il Santo delle cause urgenti, proteggimi, aiutami, dammi forza, coraggio e serenità, ascolta la mia richiesta. Chiedere la grazia desiderata Aiutami a superare questo momento difficile. Proteggimi di tutti coloro che possono danneggiarmi. Proteggi la mia famiglia. Rispondi urgentemente alla mia richiesta. Ridonami la pace e la tranquillità. Ti sarò grato fino alla fine della mia vita. E porterò il tuo nome a tutti quelli che hanno fede. Santo Espedito, prega per noi. Grazie, Santo Espedito. Amen. 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 Grazie a tutti.